Un commerciante Bruno Ielo di 66 anni, titolare di una rivendita di tabacchi, è stato ucciso in un agguato a Catona, frazione di Reggio Calabria. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di stato, Ielo, mentre rientrava a casa alla guida del proprio scooter, sarebbe stato affiancato da un automezzo con a bordo almeno due persone che gli hanno sparato contro alcuni colpi di pistola. La morte del commerciante è stata istantanea. Al momento dell'agguato, l'uomo stava tornando a casa dopo aver chiuso la rivendita di tabacchi che gestiva nel quartiere Gallico. Il commerciante era preceduto in auto da una delle figlie. Tra le prime ipotesi avanzate dagli investigatori, quella di un tentativo di rapina per sottrargli l'incasso della giornata. Ielo, secondo quanto si è preso, era armato ma non ha fatto in tempo a prendere la pistola per difendersi. Già lo scorso anno il commerciante aveva subito un tentativo di rapina ed anche in quella occasione era stato ferito con alcuni colpi d'arma da fuoco ad opera di alcuni banditi.